amici di atti sport 24 bentornati nuova puntata di due metri la pallannuto vista da vicino che torna oggi in casa della compagine femminile della pallannuto trieste e per farla accoglie con grande piacere il difensore della compagine giuliana jelena bucovich ciao jelena benvenuta grazie di aver accettato il nostro invito ciao andrea grazie a te per iniziamo la nostra chiacchierata perché questo è due metri una chiacchierata a tema pallannutistico da quella che è l'ultima partita che avete giocato nella prima giornata del girone di ritorno della regular season la pallannuto trieste perde 17 a 10 contro la capolista sis roma una squadra che è lanciatissima e guida la classifica a punteggio pieno quali indicazioni vi ha lasciato la partita contro le prime della classe primi due tempi abbiamo fatto molto molto bene e poi mancava quella esperienza che che hanno le prime tre squadre ora in questo momento secondo me la roma è la squadra più forte in italia quindi ci stava quel risultato un po meno meno netto forse eh diciamo così perché comunque 17 gol presi sono tanti però come ti ho detto già quelli che ci seguono dall'inizio possono vedere che in questi cinque mesi abbiamo fatto tanto 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 certo anche perché poi lo vediamo nel corso della nostra conversazione tu sei una delle facce nuove di un progetto tecnico che è iniziato quest'anno quindi c'è anche bisogno per passare da una squadra che si è salvata l'anno scorso nei play out a una squadra che mira ad arrivare tra le prime quattro d'italia c'è bisogno di un tempo necessario per poter crescere nel migliore dei modi esattamente esattamente così poi direi che è un po più facile fare così come ho fatto io a trieste rispetto a quello che ho fatto a catania perché a catania sono arrivata quando la squadra era già fatta quindi mi dovevo abituare a tutto quello invece qui abbiamo iniziato tutti insieme questo percorso certo come avete rivalutato la vostra prestazione quando avete visto il video del match insieme al mister quando avete fatto l'analisi della sfida con la sis cosa vi ha detto mister zizza quello che ha detto mister zizza rimarrà secreto ma diciamo che ogni partita in ogni partita entriamo più o meno nello stesso modo perché come ho detto già siamo una squadra in crescita quindi dobbiamo lavorare dobbiamo fare il nostro e ci dobbiamo concentrare sul nostro gioco e quella è la cosa importante almeno per questa prima stagione e sperando che riusciremo a prendere questo quarto posto e poi si vedrà ah certo anche perché i progetti per diventare vincenti in genere vengono strutturati su su cicli triennali per cui questo è un anno potremmo dire per la pallanuto trieste di semina e lo hai detto già in parte all'inizio però proviamo andare nel vivo della questione eh hai ribadito due volte siamo una squadra nuova siamo una squadra che ha bisogno di crescere eh abbiamo fatto tanti progressi e io credo che questo sia un progetto che è partito da un punto e punto cerca mira ad arrivare in alto allora dove è arrivato il vostro percorso di crescita il cammino di una squadra che alla fine se ci riflettiamo è stata profondamente rinnovata la scorsa estate perché credo che ci siano almeno cinque sei facce nuove rispetto al precedente campionato certo certo siamo secondo me non voglio sbagliare ma siamo completamente una squadra nuova perché anche le ragazze che giocavano anno scorso insieme non hanno giocato in questo modo quello che ha portato mister è veramente per tutti noi una una cosa nuova e dove siamo arrivati quello sono io quella che deve rispondere a questo quello lo saprà il mister ma secondo me siamo a un a un bel punto e penso che il meglio ancora deve arrivare certo e secondo te eh sei una giocatrice esperta che ha vissuto anche l'ultimo biennio poi dopo ci ritorniamo su a Catania con una formazione di vertice che per quanto era già ben formata comunque ha vinto due scudetti la coppa Italia e quindi avrai un po' l'occhio clinico eh quanto tempo ci vuole perché Trieste riesca a poter competere alla pari con le prime della classe perché poi l'obiettivo penso che sia quello nel tempo no quello di arrivare a insidiare la leadership delle delle tre sorelle certo quanto ci vuole se se rimaniamo tutti insieme e con questo lavoro che stiamo facendo io penso che in due o tre anni possiamo arrivare a battere diciamo così le prime tre avete visto che già contro Padova eravamo molto vicine quindi secondo me due o tre anni e saremo lì ma la cosa su quale si deve lavorare tanto è la difesa poi vedremo ti rilacqua al tuo mulino da difensore e dici dobbiamo lavorare in difesa è certo esattamente per quello prossimo turno c'è un altro big match un'altra partita molto importante vi attende la trasferta di Catania contro l'equipo orizzonte partita che forse per te è particolare torni in Sicilia per la prima volta come avversaria ti chiedo che match è quello che si giocherà sabato allora entrare in acqua e giocare contro di loro sicuramente non è facile non è facile per nessun avversario io quando entro sto parlando per me ora in questo caso io quando entro in acqua non c'è la differenza se davanti a me c'è orizzonte roma padova rapalo qualsiasi altra squadra però loro sono veramente una squadra completa è sempre difficile giocare contro contro di loro quindi come in queste due partite che abbiamo fatto contro la roma e padova troveremo di fare il nostro meglio sperando che riusciremo a fare tutti quattro quarti bene e non come contro la roma che dopo secondo quarto siamo andati giù va bene siamo così al termine della nostra chiacchierata ringrazio jelena buco vici per essere intervenuta e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata ciao jelena grazie ciao grazie a te